No, 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 non funzionerà mai, McPixel, non funzionerà, esagerato, aiuto, aiuto, non rieco a fermare la pipì, qualcuno mi salvi, McPixel 95, l'icona era bellissima, no, cos'è accaduto, buongiorno, scusi, sono uscito dal culo del tizio, questa, con che musica seria non me lo dici, signori, da quello che ho capito stiamo per affrontare un gioco completamente pieno di nonsense, di cazzate, di scene totalmente comiche, con oltre un centinaio di livelli, in cui il signor McPixel, non ricordo neanche a pronunciare il suo nome, porcaccia la miseria, questo tizio dall'aria da pirla, ed è un pirla effettivamente, insomma, il signor McPixel si troverà a dover salvare il mondo, salvare la situazione, salvare la giornata, in maniera molto particolare, signor McPixel, c'è una bomba, cosa vuol fare? Perché la mette sul tavolo? Ciccio, no, ho capito che dobbiamo disinnescare la bomba ogni volta, più o meno, però, no, McPixel, io non la mangerei, non mi pare una soluzione valida, come ho detto, siamo solo nel tutorial, ma fidatevi che ci saranno mille modi per affrontare il livello, ma solo uno sarà quello corretto, e ogni volta che falliamo, giustamente, ora dobbiamo fare la cacca, dovremmo trovare una soluzione più corretta, McPixel, non si denudi così all'imprevviso, che cocchio, devo fare la cacca, dice il gioco, ah, così proprio senza che minimo rispetto, ok, poi questo va qui, questo va qua, a posto, che senso ha averla spappolata se poi la dobbiamo ricomporre, scusate? Ehm, io tirerei lo sciacquone McPixel prima che sia troppo tardi? Weee! Yeeey! Abbiamo salvato la situazione ancora una volta, save the day! E a seconda di quante scenette hai visto, ti dà un tot di completamento di quel determinato livello, non riusciremo sempre a raggiungere il 100%, e ci dovrebbe ricompensare con delle monetine, che a loro volta ci permetteranno di scoprire nuove zone della città, è un gioco lungo, è un gioco che c'ha letteralmente di tutto. Allora, vediamo di esplorare quindi la suddetta città, vuole 20 monetine, ne ho solo 10, perché sono povero, por caccia la miseria, raggiungiamo qualche nuova location, eh, siamo in stazione? Oh, buongiorno, io voglio salire senza il biglietto, ma l'ho per quota della tizia, ma povera, scusi! A parte che ne hai preso talmente tante McPixel, ok, non picchiamo le donne, perché sennò ne prendiamo tante, ma tante. Senti, compro il biglietto per 5 monetine, a posto, grazie, molto gentile. Ora presumo che mi faranno salire in treno senza nessun problema. A posto! Arrivederci, signore, è stato un piacere prendere la calci in culo. Oddio! Save the day! Ok, è cominciata la nostra missione, ce la possiamo fare. Siamo a bordo del treno. Oh, a quanto pare c'è il nostro piumbo! Rischiamo di precipitare? McPixel cosa si inventerà questa volta? Allora, c'è un vecchietto, una signorina con... Signorina, che cosa ha lì, scusi? Ah, era... Era il coso dei pesci. McPixel non abbiamo risolto praticamente nulla? Vabbè, non mi dire che finisce così, ma no! Ok, voglio rifare da capo, scusate, non devo cliccare lì, ma porca la miseria. Ed è anche esploso il treno alla fine, perché ovviamente... Ok, abbiamo tornato al 9% delle scene. Ah, mi passa a quella successiva! Ok, la casa sta andando a fuoco. McPixel, cosa ci inventiamo? Buttaci l'acqua. No, non devi bere l'acqua, McPixel! Sta scadendo il tempo? Hai peggiorato la situazione! Prendi il nonno, prendi il nonno, salva il nonno! No, non ti ho detto di buttare il nonno in mezzo al fuoco! Ehm... Che faccio, che faccio, che faccio, che faccio, che faccio, che faccio? Ah, non va bene, non va bene. No, non volevo che tu pisciassi sopra il fuoco. Oddio. Ok, piscia ancora, piscia ancora, piscia ancora! Forse la tua pipì ci potrà salvare. Piscia di più! Piscia ancora una volta di più! Eh, niente, non ce l'abbiamo fatta. Wow! Ok, forse siamo sopravvissuti. Due stampini, tre stampini, quattro stampini! 66% ma non abbiamo ancora salvato la giornata. Ora siamo finiti nello spazio, stanno arrivando gli asteroidi. Dobbiamo salvare l'astronave in qualche modo. Perché c'è un rocchettaro qua? Vediamo un po'. Possiamo interagire con la chitarra. Vediamo un po' cosa succede. Ok, abbiamo suonato ma non è che abbiamo... No! Cosa stai facendo? Vabbè, è entrato nella navetta spaziale. Oh mio Dio! E adesso cosa succede? Aspetta, aspetta, aspetta. Vuol dire che devo fare qualcosa. Spara! Eh, a tua nonna sparo. Come faccio a sparare? Ah, così? Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Dobbiamo distruggere tutti gli asteroidi? Prima che raggiungano la navetta? Salvo io la giornata! Aspetta! Sono un sacco di asteroidi! Ok, abbiamo quasi distrutto tutto. E non ho capito chi fosse il rocchettaro, ma vabbè, dettagli. Ok, questa l'abbiamo completata. Save the day! Ottimo. Però non abbiamo trovato tutte le scenette. Vabbè, l'importante è intanto averla completata. Ok, stavolta siamo nella foresta. Ok, c'è il nonno ancora una volta che si sta godendo il campeggio. No, no! Pigliati un calcio in faccia! Più calci al nonno, ancora più calci al nonno. Gli posso ciullare qualcosa? No, non posso ciullare niente. No, cosa hai fatto? Cretino! Non abbiamo risolto la situazione... Ok, è ovviamente esploso tutto. Mi par giusto. Sembra una boiata, ma non è facile capire cosa voglio andare nella mia vita. Ok, siamo a bordo di un aereo militare. E uno dei motori è andato a farsi benedire. Vabbè, signore? Dove è andato? No, 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 voglio scendere anch'io. Aspetta, come faccio? Buon uomo? No, non volevo percuoterlo. Cosa ho fatto? Oddio. Buttalo di sotto. Arrivederci, è stato piacere conoscerla. Ok, qui c'è da abbiamo il paracadute. Non buttare il paracadute! Uso il paracadute! Perché sta buttando giù oggetti? No, beh! Magari riesco a prendere il paracadute al volo. McPixel, sei un cretino? Prendi la pala. Vediamo un po' che... No! Aspetta! No, non era quello che volevo fare. Ok, i militari almeno si sono salvati. Mi consolo. Oh mio Dio. Ci sono una marea di scenette qua. Guarda quanta roba! Abbiamo trovato il 31% per adesso, ma non abbiamo salvato la situazione. Ok, eccoci ritornati al treno. Dobbiamo fare di meglio questa volta, gente. Non possiamo permetterci altri errori. Allora, c'è il nonno. Che succede se clicco sul nonno? No, aspetti di percuotere il nonno! Vecchiaccio, maledetto! Dammi una mano! Allora, aspetta, questa è la bomba? Cos'è? Sembra un gavettone quello delle scureggio, ma vabbè, dettagli. Ok, buttalo lì dentro. Buttalo dentro. No! Non scendere anche tu, ciccio! Ah, c'era il buco sotto. Ok, ma hai buttato la bomba dentro? Ma non abbiamo risolto nulla? Aspetta, torna fuori, torna fuori. Che altro possiamo fare? Con che altro posso interagire? Il finestrino? No, ti ho buttato! Ma no! Ti fai malissimo, cretino! Che hai fatto? No, 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 non funzionerà mai, MaxPixel! Non funziona... Io te ho provato a dire che non funziona! E poi è esplosa la bomba. Ma non l'avevo buttata fuori? Ero convinto di avercela fatta! Ok, 36%. Ritorniamo alla casa. Secondo me, avevamo quasi trovato la soluzione. Sì, la so, premontato centrale. Posso vedere tutte le interazioni. Allora, proviamo a pisciare, ma proprio una cifra? Forse, forse, se piscio abbastanza. Aspetta! Dobbiamo bere per pisciare... No, non volevo picchiare il nonno! Bevi un sacco! Bevi proprio una cifra! Veloce! Veloce! Ci serve uno sfaccello di acqua! Come faccio a capire se ho bevuto abbastanza? Direi che cinque volte dovrebbe essere più che sufficiente. Vediamo un po'. Ok... Eeeh, vabbè! Esagera... Eeeh! Esagerato! Aiuto! Aiuto! Non rieco a fermare la pipì! Qualcuno mi salvi! Abbiamo spento... L'incendolo abbiamo spento, ma abbiamo ripito la casa di piscio. Ma che schifo... Il nonno è affogato male! Aiuto! Chiamate un'ambulanza! Eeeh! Il nonno è morto! 100%? Sì! Abbiamo completato la zona! C'è morta della gente? Ma non importa! Ok! Ritorniamo là fuori! Vediamo un po'... Posso prendere a calci l'albero? Ok! È caduto un ramo! Perfetto! Oddio! Non so se la miglioriamo però! No, no! Così prende fuoco il nonno! No! Abbiamo propagato gli incendi in tutta la foresta! E il nonno non se la passa bene! Aspetta! Cos'è questo? Wow! Era la bomba? Eeeh! Non abbiamo salvato la giornata! E abbiamo fatto ancora più danni di prima! Ok! Eccoci ritornati a bordo dell'aereo militare! Se ho visto bene c'era il pilota che è svenuto! Sveglia il pilota! Dagli due sberloni! Che stai facendo? No, 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 no! Non era quello che ti devo... Stai facendo peggio ciccio! E l'aereo precipita! Oh, oh! Ah, è precipitato su un'isola! Ma mi sa che siamo morti male, male! Ah, dannazione! Ok, ho trovato altre scenette! Siamo appena al 40! E rieccoci al treno! Ok, dobbiamo capire come non solo distruggere la bomba, ma anche fermarlo! E credo di aver capito! Allora, prendi la bomba stavolta! Non facciamo boiate! Ok! Buttala dentro! Ottimo! C'è il buchino! Ho visto dopo che c'era il freno! Tira il freno d'emergenza! Riusciamo a fermarci in tempo? Giusto, giusto! Ok! E la bomba è già esplosa prima! 45%, ci sono ancora tante scenette! Per davvero! Che succede se provo ad afferrare il ramo? Ah, dice che non ce la fa! Ok, ridagli il calcio! Perfetto! E se provo a picchiare il nonno? Nonno! E io, vieni qua che te ne prendi tante, ma tante! Con il bastone perfino! Aspetta, ci deve essere qualcos'altro! Continua a picchiare il nonno! Continua a picchiare il nonno! È la soluzione, me lo sento! No, no, niente! Il nonno è praticamente immortale! Porca cazza la miseria! Ok, ho trovato un'altra scenetta! Mi dicono dalla regia, ma ancora non abbiamo salvato tutto! Ok, ok, vediamo cos'altro possiamo fare... Non posso provare a palpeggiare io i controlli? Non cliccare a caso! E cosa clicco? C'è di tutto, letteralmente! Non cliccare a caso, McPixel! E precipitiamo di nuovo, vero? Che porco cane! Ok, ed è così che è iniziato l'host per colpa di McPixel! Ma c'è un tizio svenuto anche qua a terra, signori! Ma dobbiamo fare attenzione! Ok, non ci sono altre cose all'interno dell'aereo! Allora, proviamo a buttare giù un po' di oggetti! E questa volta interagiamo in maniera differente! Arrivederci, tizio! Ok, questa volta proviamo ad afferrare il... Paracadute prima! Ok! C'è un tizio dentro! Steve! Chi è Steve? Che ci fa Steve? Quindi, come faccio a salvarmi la vita io? Oh no! Abbiamo completamente cambiato location adesso! Questo è il signor Steve? Signor Steve! Allora... Oh mio Dio! Provi a pescare qualcosa con una banana! Non ho capito perché c'era un Uzi dentro! Probabilmente pescherò una scimmia! Vediamo un po'! E abbiamo pescato... Parapap... Ah no! Beh, è giusto! Una palma o un banano? Non ci ha dato sapere! Steve! Birbantello! Ah, è una side quest quella di Steve! Non lo so come spegnere l'incendio! Porca miseria! Ok, proviamo ad agitare le fiamme di nuovo! Ci deve essere qualcosa che mi è sfuggito? Posso interagire col nonno? Ma non... Penso che picchiarlo sia la soluzione! Oh mio Dio! Nonno che fai? Nonno che fai? Placati! Oddio! Il nonno usa me per spegnere la miccia! Non ci credo mai! La violenza è la soluzione! Abbiamo salvato la giornata! Chi l'avrebbe mai detto è completato al 100%! Sì ma gioco! Io non è che posso farmi venire queste intuizioni così geniali ogni volta! Ok! Eh... Devo fare altro! Questa volta clicchiamo sul tizio svenuto! No! Non ci saltare sopra! No! L'aereo è precipitato lo stesso! Ma potevate darmi altro tempo! Oh! Mi piace come pigliamo sempre in pieno l'isoletta! Così arandomi in mezzo all'oceano! Ok! Domanda da un milione di dollari! Se questa volta buttiamo giù il tizio ancora una volta dopo averlo legnato male! Perfetto! Buttalo di sotto! Ottimo! Butta giù il paracadute! E anche la pala! Vediamo un po' se possiamo cambiare il destino dell'umanità! Allora! Proviamo a salvare il tizio stavolta o mi aggrappo lui! Non volevo percuotere l'altro tizio! Ma c'è... Oddio! Gli ho rubato il paracadute? Gli ho rubato il cocchio di paracadute per davvero? Ma no! Ma si sono spalmati male! Megpixel! E cosa me ne faccio? Posso scavare? Sì ma... A parte quello... Megpixel! Dove stai andando? Eh eh! Esagerato! Sta andando al centro della terra? Ah no! E' andato dall'altra parte direttamente! Megpixel! Ce l'hai fatta con la scritta al contrario! Save the day! Yay! Oh mio Dio! Quanto abbiamo raggiunto? Il 70%? 72%? Tecnicamente missione completata? Eeeh! Il giorno è salvo! Yay! Sì ma quanta gente è morta? Abbiamo salvato Megpixel più che altro? Cioè vabbè con che scenario epico non me lo dici peraltro? Eeeh! Che fa anche la dub! Perfetto! Abbiamo ottenuto anche un bel po' di monetine! E completato i livelli al 71%! Vabbè ma ci sono tutte le statistiche! Eeeh! Quello del treno aveva ancora un sacco di scenette da parte! E sì che non c'erano tanti oggetti con cui cliccare! Oh forse devo afferrare tipo la bomba e poi darla al vecchio! Me la fate rifare? Allora vediamo intanzitutto di tornare indietro per adesso! Ovviamente precipitando dal cielo! La città è bella grandina peraltro! Usa il menu per l'accesso rapido per visitare le aree in cui sei già stato! Ah quindi posso cliccare qui! Perfetto! E story mode? Ah ma mi fa rifare tutto da capo? Immagino di sì! Quindi per adesso vediamo di ritornare in città! Allora c'era lo stand! No adesso è chiuso! Ma come? Perché c'è un ragno? Evitiamo di andare lì del ragno! Ma avevo le monetine finalmente! Ok controlliamo se ci sono altre zone anche da quest'altra parte! Qui mi sa che non possiamo andare! Buongiorno signore! Che fa... McPixel devi smetterla di picchiare la gente! Ok abbiamo raggiunto il GameStop all'improvviso! Ok picchiamo anche questo? Tutti picchia lui! Possiamo usare il computer no? Ci vogliono 100 monetine per usare il cabinato! Ma è un furto! Ma che cocchi sono troppo povero! Oh mio Dio abbiamo trovato il tizio di prima! Quello che era sull'astronave! E lo picchio! Giustamente! A lui non si fa problemi lo puoi picchiare quando ti pare piace? Sì sì sì! Dove è finita la chitarra? Ha smesso di suonare la chitarra! Ho trovato il vicoletto quello losco? Ok entriamo nel vicoletto losco! Salve signore! Cosa ce n'è? Oh no! Ho trovato Steve! Che cocchio ci fa Steve nella pattumiera? Trova tutti gli sketch! Ok! Ah siamo ritornati qua di prima? Allora questa volta utilizziamo il verme! Beh presumo che mi darà un pesce ovviamente! Visto che è l'oggetto giusto da utilizzare! No! Un bazooka! Perché? Ah! Worms! L'ho capita adesso! Era un riferimento a worms! Ok! Abbiamo fatto il 33%! Steve questa volta usa la pannocchia! La pannocchia cosa potrebbe? Il popcorn probabilmente! Ma è in acqua! Non può fare popcorn! Ah! Ha pescato McPixel che mangia i popcorn sott'acqua! Giustamente! Ci riesce solo Steve! Ok! 50%! Mi basta usare i vari oggetti! Perché? Steve! Perché? Perché hai un piede nella valigia? Non è che mi arriva su tipo un mafioso o altro? Uno squalo! Dico uno squalo? E? Ah no! Giustamente uno scarpone! E beh! Se usi come esca un piede! Intanto la risposta è così ovvia e stupida! Che ti senti imbecille tu! Ok! Voglio vedere con gli uzzi! Sarà qualche... Non lo so! Qualche gang di malavitosi... Potrebbe essere tutto un militare! Un militare! Ci ho pensato dopo! Ci ho pensato dopo! Non so perché ti sia messo la... La uzza in bocca! Notavo inoltre che c'è il simbolo della mano per prendere i vari oggetti! Ma c'è il simbolo del pesce! Per usare il pesce! Ti ma se usi un pesce per un pesce per schium... Pesce? Ah è lo stesso identico pesce di prima! Steve! Sei il peggior pescatore della vita! Santo cielo! Ehi! Almeno abbiamo completato la zona e... Dovrebbero averci dato un po' di monetine! 94! Me ne servono 100! Porca la miseria! Ehi! 100%! Mi piace come gli hanno fatto un'interfaccia troppo figa! Che ti fa sentire un bambino importante! Santo cielo! Ehi! Grazie! Grazie! Grazie popolo! Ok! A posto! In 24.666! Ecco! C'è sempre un po' di satana nei miei gameplay! Lo sapete molto bene! McPixel! Un paracadute la prossima volta! Il nonsense totale di questo gioco! Allora, fatemi dare un'occhiata in giro! Perché se no devo rifare... Alcuni livelli! Non possiamo andare sotto! Ah! Devo completare altri round per poter sbloccare... La zona sottostante! Va bene! Ok! Questa volta non entriamo nel vicoletto! Provo a proseguire oltre! Eh... Hotello? Ah! Buongiorno! Scusi! No! McPixel! Ma porca la miseria! Non funziona così! Devi smetterla! E ho! C'era le parti intime un po' caldine! Santo cielo! Ok! Parliamo con la signora McPixel! Le ho dato del danaro! Non so se è stata la cosa giusta da fare! Ma no! Signore! Scusi! Ma le pare il caso! Solo io posso fare la pipì in giro! Te ne prendi tante ma tante! Porca la miseria! Ok! Avanziamo che è meglio! Oh! La musica quella da ascensore! Ma devo aspettare veramente dentro l'ascensore! Ehi! Quanto ci vuole! Per sciogliere l'ultimo piano! Ok! A quanto pare mi hanno dato l'attico! Aspetta che ho dovuto un occhiato in giro! No! McPixel! Non buttare di sotto la signora! McPixel! Porco cane! Ci vogliono 200 monetine per accendere il computer o il televisore? No! McPixel! Dai! Ma perché? Oh! C'ha una mira! Complimenti! Veramente assurda! Complimentoni! Signor McPixel! Ok! Vediamo di entrare nella stanza d'albergo! Oh! Porcaccia la miseria! Cos'ho trovato? Aspetta un attimo! Non mi dire che abbiamo... Sono stato miniaturizzato! Ah! Oh no! Save the day! Ok! Abbiamo trovato una nuova serie di missioncine! C'è un gatto gigantesco! Eh! Ma io sono minuscolo adesso! Come facciamo a risolvere la situazione? Ehm! Topo! Vai fuori tu! No! Non era quello che mi aspettavo sarebbe accaduto! McPixel! Come ho detto devi smettere di prendere a calci le cose! E gli esseri viventi! Ok! Questa volta siamo in mezzo al giardino! No! Una falcia erba! Mi devo spostare velocemente! Ehm! Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? C'è una mosca? No! Non era questa la soluzione? C'è un vermetto? Non farti strangolare! E' andato via? E adesso? Che sta facendo? Un bazooka! E' il verme di Worms! Continuo a dimenticarmene! E poi sono stato falciato male! Giustamente! McPixel! Smettila di farti miniaturizzare! Ok! Abbiamo trovato un bel po' di scenette intanto! Passiamo direttamente alla prossima! Ehm! Siamo in ufficio? Ok! Oh! Ok! Prendi le forbici! Taglia questo! Non era la soluzione giusta vero? Si è addormentato! Ma come si è addormentato? Ah no! Aspetta! Ero dentro il tizio io! Mi sa che gli ho fatto avere un coccolone! Ehm! Questa non me l'aspettavo! Ok! Questa volta siamo dentro il computer! Presumo! Ho visto il simbolo del processore! Allora! Possiamo interagire con la RAM! Col condensatore! Tocca il condensatore! Non si cava! Dai! McPixel! Ehm! Allora a sto punto prova a prendere la RAM! La metti nello slottino delle RAM! Mettila giusta mi raccomando! Ma non può andare in corto! Cioè ok! Non dovresti farlo a computer acceso! Oh 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 oh! McPixel sei il peggior tecnico della vita! Dannazione! Qui là ci sono tante scenette col computer! Bene 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 bene! Oh no! Un gigantesco formicaio! Signore! Non vado a rompere le balle alle formiche! Ehm! Come la risolviamo? Ah ma sono anche io una formica! Ehm! Dove vado? Regina! Le porto del cibo! Perfetto! Continuo a portare del cibo alla regina? A sto punto? Vediamo di renderci utili! E ma tra un decennio sono ancora qua però eh! Anche perché la regina c'ha la paletta! Quindi mi sa che se non la secondo mi prende a legnate eh! Sì ma sono tre ore che vado avanti col cibo! Oh oh! Il timer sta per scadere! Spero di venire dato abbastanza! McPixel! Un'ultima cosa veloce! E tutto questo per? Ma no ma che bastardo! E questa come la risolviamo? Come fanno ad esserci tutte ste scenette? Ma per davvero? Oh santi numi! Ho visto il simbolo degli scacchi? Aio! C'è il nono che gioca a scacchi contro McPixel! Ma non era un miniaturizzato io scusate l'ignoranza? No no non fare boiate! Allora picchiamo il nonno! Chi mi parla soluzione migliore? Che io! Non era questo il gioco McPixel! Non sa giocare a scacchi poverino! E uno... Ho salvato la giornata! Era questa la cosa giusta da fare per davvero! Ok! Allora ci credo mani la vita! Ritorniamo dal topo e dal gatto! Aha! Ho notato adesso che c'era un fiammifero! Che possiamo accendere dove? Lo accendo sul formaggio! Oh! Ok! E se lo do il topo? Oh mio Dio! Ho legnato il topo! Eeeh... A posto! E ora cosa faccio? Lo diamo al gatto? Ciccio vengo in pace! Volemo se bene? Uh! Il gatto è contento! Ottimo! Mi sa che l'ho risolta! Gente mi sa che l'ho risolta! Yay! E save the day! Perfetto! Ok! Anche qua c'era una marea di scenette! Ma porca c'è la miseria! No! Dobbiamo ripeterla appena possibile! Ok! Questo è difficile! Dobbiamo evitare di far arrabbiare il verme! Che succede se clicco sulla lumaca? Ah! Gli posso salire a bordo? E ma fra un decennio siamo ancora qua? No! Non puoi vincere contro la falcia erba! No! No! Ciccio! E' folliello stato puro! Eccole lì! Tritato male male! McPixel non era l'ometto più furbo del giardino? Ok! Siamo di nuovo dentro il corpo del tizio! Dobbiamo evitare che gli venga un coccolone? Allora vediamo un po' Che succede se vado di sopra? Uh! Buon salve! Wow! Ok! Che sono arrivato nello stomaco? McPixel! Gli suchi gattici ti sciolgono? Oh! Che succede? No! Non andare in bagno a far scureggio e ti prego! C'è lo stomaco che gli gorgoglia e borbotta? Ah! Sono stato sciolto dai suchi gattici! Giustamente! E' esattamente quello che accadrebbe! Harry! Eccoci dentro il computer! Allora abbiamo... Ah! E' una resistenza quella! Non è un condensatore! Questo è un condensatore! McPixel ha ottenuto dell'energia elettrica! Ok! E se tocchiamo il chip... Cosa? Non è un millepiedi! È un chip! Porco care! Come ho fatto a confondere prima la resistenza col condensatore? Ma vabbè i dettagli! Non importa... Uh! Uh! Ho fatto cose? E' ripartito, no? Ancora schermata blu? Però... No! Niente da fare! Non abbiamo ancora sistemato il computer! Ragazzi! Fare il tecnico non è una cosa semplice! Ok! Il formicaio! Aia! Mi ha spalmato male male! Ma no! Ma come? Perché non gli ho portato del cibo in tempo? Ma stavo cercando una soluzione ai problemi! Ok! Giardino di nuovo! Aha! Si attendiamo abbastanza a lungo! Guardate che roba! Sotto la lumaca c'è un oggetto! No! Non dovevi mangiare tutto! Perché continui a mangiare le cose? Ehm... Proviamo ad andare adesso sulla lumaca! Vediamo un po'! Non credo sia cambiato più di tanto, tuttavia! E giustamente siamo stati tritati! Vabbè! Almeno abbiamo sbloccato un'altra scenetta! Aspetta! Si può andare anche verso il basso! Non me ne ero accorto! Veloce, veloce, veloce! Che esplode tutte cose! Ehm... Vabbè, ma vado verso il cu! Il cu! Il cu! Ehm... Mi sa che devo andare in bagno! Mi sa che devo andare in bagno! Sto per fare una brutta fine! Oh oh! Oddio! Sì, ok! Sono uscito dal... Buongiorno! Scusi! Sono uscito dal culo del tizio! Questa! Ehehe! Sarai salvo! Ehehe! Ok! Ed è così che nascono i bambini, signori! Se qualcuno avesse un dubbio! Oddio mio! Mi ha ammazzato male questa! Beh, in verità non mi ha ammazzato, ma insomma ci siamo capiti! Allora, cerchiamo di caricarci di corrente! Ottimo! E... Andiamo a toccare a questo punto la resistenza! Vediamo un po'! Allora dovrei poterla togliere! Yeeey! E non è finita qua! Ehm... Provo a... Prendere anche la RAM! Adesso è una RAM con delle resistenze! Non lo so nemmeno io! Mettila sul coslot qua! Che stai facendo? No! McPixel! Non fun... Non dire che funziona! Non mi dite che funziona perché mi incocchio! Oh, ma dai! Abbiamo caricato il sistema operativo McPixel, giustamente! Save the day! Non ci credo! Non può... Non lo accetto! Vabbè, non importa, non importa! Come tecnico ho il diritto di rivoltarmi! Allora, vediamo di prendere la paletta! Ok! Così possiamo ammazzare la mosca! Ora posso prendere la... Cos'ho preso le ali della mosca? McPixel? Non mi dire che vola via! Ovviamente! Beh! Strapi le ali, una mosca, te le trappianti tu! Qui! Libero e felice! Come una mosca morta! Perfetto! L'abbiamo completato al 100%! Incredibile ma vero! Non ne avevo la più pallida idea di come risolvere la situazione! Ok! Il cocchio di formicaio! Aspetta un attimo! Se gli do da mangiare si chiudono gli occhi quindi forse posso scendere appena di sotto! Perfetto! L'ho capita dopo! Il problema è che ho perso una mare di tempo! Eh... Ok! Continuiamo ad andare verso l'uscita? Forse ricorda salvarmi in tempo! Posso salire sulla gamba del tizio? Ok! Continua a salire! Continua a salire! Vai! Non ti fermare! Porca puzzona! Purtroppo non ho abbastanza tempo! Eh! Oddio mia! Signore! Ah! Si prende all'ignata da solo! E si è ammazzato da solo! Però! Era la soluzione! Ok! Non so dove fossero le altre scenette! Eh! Le ho trovate tutte! Beh davvero! Eh! Incredibile ma vero! Il 100% così a random! Yey! Tutto calcolato gente! Tutto calcolato! Ok! Save the day! The day is saved! Per fortuna! Mamma mia! Si è stata complicata questa! Ah! Volevo vedere le altre scenette! Ammetto ero curioso! Ribadisco che gli sviluppatori di sto gioco ci hanno problemi gravi! Seri! Io mi farei vedere da uno bravo! Ok! Abbiamo anche ottenuto un buon quantitativo di monetine! Mi rompe solo le scatole che alcuni livelli sono rimasto un po' indietro! Ad ogni modo ritorniamo in città! McPixel! Perfetto! Vediamo se nel frattempo si è sbloccato qualcosa! No! Qui è ancora tutto chiuso! Allora! Potevamo giocare ai videogiochi a patto di avere un centinaio di monetine! Il GameStop adesso si fa pagare uno sfacielo! Porcaccia la miseriaccia! Ecco qua! Cuccati tutte le mie 100 monetine! Quindi entriamo nel mondo dei videogiochi! Ok! Sembra aver funzionato! La console si è accesa e porcaccia la miseriaccia! Dobbiamo salvare il giorno! Anzi la giornata! Ancora una volta! Ah! Già ero McPixeloso prima! Adesso ho ancora meno pixel nel mio McPixel! Allora vediamo un po'! Posso picchiare un tizio! Certe cose non cambiano! Ok! C'è un alberello che prendo a calci! Ovvio! No! Non tocco la pozza che è meglio evitare! Abbiamo una pozione! Ok! Non l'ha bevuta no? Credo che l'abbia presa! Che succede se metto la pozione nella pozza? Non era quello che volevo fare McPixel! Ero curioso di... Vai! Non importa! Ok! Abbiamo sbloccato due scenette intanto! E passiamo alla prossima! Il Sossodor! E che Commodore era troppo mainstream! Ok! Vediamo un po'! Siamo su un'isoletta! Oh mio Dio! Uno di questi giochi! Eh! Cos'è? Un missile? McPixel che fai? No! Non ti ingroppare il missile McPixel! Che poi esplod... Io glielo avevo detto! Ragazzi! Non ingroppate le cose a caso! Mi raccomando! Ok! Ci sono poche scenette per fortuna! Dovrebbe essere una mappa abbastanza veloce! Ok! Abbiamo un giochino con un vulcano! Stavolta! Vediamo un po'! Che lo devo fare! Ah! È uno di quelli in cui devi esplorare la mappa! Ok! Vediamo un po' se trovo qualcosa! Buongiorno! C'è nessuno? Dove poi sto andando? Ah! Ho trovato la casa di un tizio! Buongiorno! Ho preso un pesce! Vuole il pesce? No! Ha detto che lui il pesce non lo vuole! A parte che ti chiedete l'ho legnato! Non possiamo molare il pesce nel mare? Aspetta! Torniamo indietro da dove abbiamo iniziato e... Olè! Sei libero! Anche se penso che fosse morto probabilmente! Oh! Porca miseria! Non ho risolto nulla! Ok! Esploriamo da quest'altro lato! Perché sto facendo il giro dell'oca gente? Vabbè! Posso interagire con la casa? Io ho tolto il tetto al tizio! Aspetta! 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 Il tetto sembra avere la forma di una barca! Non vorrei dire una boiata? Abbiamo ancora 15 secondi? Dai che questa la faccio al primo colpo! In teoria! E via! Verso l'infinito ed oltre! Se non becco uno squalo o altro! Aha! Ok! Perfetto! Completata alla grande! E abbiamo anche salvato il pesce! Ok! Era una mappa abbastanza piccola una volta tanto! Ok! La bomba si trova sul tetto! Però McPixel non sa come arrivarci! Allora possiamo interagire con questo! Ma non ha modo di far nulla! Ok! Entriamo nella casa! Mi serve probabilmente un oggetto con cui scavare! Un fagiolo magico! Aspetta un attimo! Forse col fagiolo cresce una pianta e posso andare sul tetto! Eeeh! Vabbè! Cosa è successo? Buongiorno! Ah! Ok! L'idea era buona! Mi ha pisciato addosso il fagiolo! Ok! Eeeh! McPixel si chiama Karma! Hai pisciato addosso un sacco di cose, persone e via dicendo! Oddio mio! Ok! Abbiamo intanto trovato il 37% delle scenette! Sono livelli veloci ma sono belli numerosi in effetti! Ok! Vediamo di caricare! Oddio! Cos'è stavolta? È un McPixel! Giustamente! Allora! La porta è chiusa! È tipo Prince o Persia! Dobbiamo raggiungere la levetta ma come? Eh beh sì! Certo! Funziona così! Ok! Tira la leva! Ottimo! Sempre coi piedi eh McPixel! No! Potevi scendere con maggiore delicatezza e leggiadria! Sì vabbè ma questo è uno degli sfondi più classici a pochi bit! Cos'è sta roba? È un bug? Cos'è? No! Mi ha dato alla 220! Aia! Aia! Ho muociato in corto il computer! Ok! Non era la soluzione giusta! Eh vabbè! Quanti cosi ho sbloccato! 75% così randomicamente! McPixel 95! Vabbè l'icona era bellissima! Oh mio Dio! Il cestino per davvero? Un po'? È stato un pezzo di carta! Un documento! Sono caduto nel cestino! McPixel è caduto nel cestino! Razza di idiota! Secret level! C'è un livello segreto! Oh mio Dio! Cosa sta succedendo qua? Cosa è stato... È stato disegnato in paint! C'è un gatto! No no no! Non cavalcare il gatto! McPixel c'è la bomba! Dobbiamo accusare la bomba? E la casa esploda! McPixel ti sei dimenticato l'obiettivo della missione! Vergognati! Ok! Era comunque un obiettivo secondario! Allora riproviamo a risolvere questo enigma! Se andiamo da questa parte cosa c'è? C'è un cane! Ciao Fufi! Che ha fatto? Mi ha sbranato? No! Il cane è andato sull'albero credo! Non lo scopriremo mai! Recuperami intanto l'abozione! Vediamo che succede se butto la pozione sull'albero! No non voglio che ci pisciassi ciccio! Non sembra aver riscosso un grande successo! Fufi è ancora qui! Aspetta un secondo! La bomba è qui! La bomba è qui! La bomba è qui! Aspetta! Ok dobbiamo buttare la bomba nel buco probabilmente! E risolviamo la situazione! Non ho capito quella del cane! Perché se io piscio sull'albero i cani segnano il territorio con la pipì! Potrebbe esserci una soluzione in mezzo a questa follia! Ah siamo ritornati qua del missile! Ok! Aspetta si può andare indietro! Ah! Eccola qua la bomba! È una bomba o una mela? Credo che sia la bomba! Aspetta! Se mettiamo la bomba sul missile e non ci ingroppiamo il missile! Forse forse è fatta! No! Mi sa che era una mela! Mi sa che era una mela! Vediamo un po'! Non abbiamo risolto nulla! Abbiamo solo mangiato una mela e poi mi sono ingroppato il missile! Il vantaggio è che ho ottenuto una scena extra! Ed eccoci ritornati qua! Quella del fagiolo mi ha spiazzato un attimino! Allora vediamo di ritornare all'interno! Prendi l'uovo a sto punto! Quindi tutto quello che seppelliamo qua sotto! Spona cose stra... No! McPixel non dovevi covarlo tu! Oddio! 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 Che buia succede adesso? E... McPixel! Perché? Questo era un uovo di... Che buia era? Sembrava la fusione fra un gallo e un serpente! Mi sa che la gallina ha fatto delle porcate con qualche creatura che... Nostro signore non approverebbe! Cos'è che abbiamo sbagliato qui l'altra volta? Perché ho tirato la leva... Ok... La posso tirare di nuovo? No! L'ha strappata! Aspetta! Perché l'ha strappata? Ehm... Ok... Ci possiamo... Ah! Percuotere l'oggetto lì! Come si chiamava? Quello che c'ha dato al 220? Vediamo un po'! Questa volta... E dovrebbe essere la soluzione giusta! Che sta facendo? Ah! Ha messo la... Leva su di sé! Ok! C2 punti barretta! I bei tempi di MS-DOS! C'era ancora una scenetta? Però almeno abbiamo salvato la giornata! Ok! Allora... Ehm... Vediamo di utilizzare il risorso del computer! Perché l'hai rotto, me pixel? Ma sei un idiota! Ma... Ok! Ha ottenuto qualche altra scenetta! Ma sei un cretino! Ok! Siamo di nuovo nel livello segreto! Vediamo di capire al volo la soluzione! Allora... Prendi la bomba! Ehm... Possiamo portarla in casa! No! Non era questa la soluzione, me pixel! Scuta! Scuta! Volevo vedere cosa c'era in casa! Ehm... Non abbiamo risolto nulla! Me pixel avanti! Aspetta! C'è un'altra zona qui a destra? Oh! Ok! 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 Allora... Prendi la mela, la bomba, qualunque cosa fosse! Non ci hai dato sapere! A me sembra comunque una mela! Perché questo è un albero! Dannazione! Vediamo un po'... Forse possiamo... Buttarci in acqua? Ok! E cosa risolviamo? Ah! Che se esplode l'isola noi siamo lontani! Tanti saluti! Forse la mela ci dà l'energia necessaria per andare avanti! Altrimenti saremmo affogati male male! La butto là eh! Me pixel non ha la benché minimo senso logico! Oh! Ancora sto livello! Ok! Non ci riesce a che utilizzare l'ultimo oggetto a sto punto? Credo... Cos'è un telefono? Un peso? Forse è un peso! Non lo so nemmeno io! Ok! Prova metterlo sotto terra! Vediamo un po' cosa succede! Maronnissime! E abbiamo ottenuto... Un palo della luce! E... È esploso comunque tutto! E cosa dovevo fare io? Scusate! Ok! Rieccoci tornati su un McPixel 95! Allora prendi la bomba! No! Prendi la bomba e buttala nel cestino! Mi sembrava una valida soluzione! Ok! Livello segreto non ti temo! Allora prendi la bomba! Ehm... Cavalca il coso e buttala via! Non voglio che la mettesi nel culo del... Teoricamente ha funzionato? Gioco dice... Sì! A posto! Per lui va benissimo! Sei comunque un malato di mente, signor McPixel! Guarda le monetine che abbiamo ottenuto nel frattempo! Aspetta un attimo! C'è chitto SOS qua sotto! Non me l'ho accorto! Vai! Cliccalo! Wow! Sono partito verso l'alto! Ma porca la miseria! Va che il suo sistema operativo ce l'ha chiaramente con me! Ok! Eccoci ritornati alla casetta! Qua mi sfugge qualcosa! Ma cosa? No! Questa è una scala! L'ho vista adesso! Come ho fatto a non notarla? Ok! Metti la scala qui! Ma dai! Quindi adesso cresce in una scala? Giustamente! Non so perché mi so più di queste cose! Spegni tutto! Spegni tutto McPixel prima che sia troppo tardi! Era più semplice del previsto! Sì! Sono io che mi sono andato a complicarmela! Ma almeno abbiamo ottenuto il 100 per 100! Ok! McPixel 95 tu non me la racconti giusta! Se usiamo Paint... Posso disegnare qualcosa? Ok! Ah! Tutto questo mi aiuta come? Ho fatto un palloncino? Vabbè! Vabbè! No! Questo! Ok! Ha funzionato! E tutto questo per? Stai combinando McPixel? Ah! Ha funzionato comunque! Non chiedetemi come io abbia ottenuto il risultato! L'importante è avercela fatta! 87% Probabilmente potevo percuotere la bomba con l'oggetto che craftavo! Ok! Questa volta sento di avere la soluzione! Lo facciamo bere! Peraltro beve in maniera molto bizzarra! Se prende a calci la bomba mi incocchio tantissimo! Potevo fare la pipì sul cane per inciso! Eh! Si è messo a verbale! Vai! Ok! Ora l'abbiamo spenta? Yeeey! Come al solito mi sono perso in un bicchiere d'acqua! Maledetti bicchiere d'acqua! Ok! Le abbiamo risolte tutte? Credo di sì! Uh! Anche al 100% peraltro! E beh! Dopo 20 minuti che sono bloccato in sto cabinato! Ah! The day is saved! Sì! Ma con quanti porchi ciccio eh! Cioè! Vi rendete conto che abbiamo completato pochissimi dei livelli che sono presenti? McPixel! Basta atteggiarti a fighetone! Sei un cretino di proporzioni bibliche! Mi piace che in alto a sinistra ti indica anche il numero di click del mouse che hai fatto! Sì! Non mi ricordare quanto tempo ci ho messo! Lo so che sono una chiavica! Oh! Vi giuro c'ho i neuroni che soffrono nel profondo! Allora direi che è inutile cercare di completare altre mappe! Fatemi solo dare un'occhiata! Se posso affrontare le precedenti senza tirare troppi porchi! Senza dover rifare tutto! Volevo ritornare al livello del treno! Vediamo un po' come funziona il replay! Sì sì! Lo so! Lo so! Lo so! Trova tutti gli sketch! Eh! L'ho capito! L'obiettivo è quello! Allora voglio provare a mettere la bomba sul nonno! Ayo! La rotura di scatola è che non ti fa schippare le scene che hai visto un milione di volte! Allora bomba al nonno! No! Non volevo picchiare il nonno! Beh! Buttala fuori dal finestrino a questo punto! Ha funzionato comunque! Ok! E se tiro il freno a mano dovremmo ottenere praticamente lo stesso identico risultato! Sì! Potevamo farla anche così senza utilizzare il... Vedete che abbiamo completato obiettivi secondari! Dicevo senza utilizzare il gabinetto rotto! Qui invece siamo a bordo dell'astronave! Vediamo un po' se ho schippato! C'è un pulsante in effetti! Non mi dire che fa partire l'astronave! In automatico! Sì ma non c'è nessuno a bordo! Come facciamo? Scusate! Eh! Infatti era quello che immaginavo sarebbe accaduto! Immagino che gli asteroidi la distruggano! Yeeey! Ok siamo al 60%! Aspetta un attimo! E se io prendessi la bomba... La possiamo mettere nella boccia del... McPixel! Cos'hai fatto? Ma... Non abbiamo risolto niente! Il treno esplode comunque e te sei anche più bagnato di prima! Eh! Quel cretino di McPixel! Che poi chi è che sta piazzando tutte queste bombe? Non dico altro! Ehm... Che succede se prendo a legnate il mio amico rocchettaro? Niente! Lui si sta lì a prendersi le legnate e non si lamenta nemmeno! E se entriamo direttamente nella navetta? C'era Steve! Sì! Ovviamente c'era Steve! Quel furbacchione di Steve! C'è ancora una... Oh mio Dio! Devo fare i riti satanici? Eh... Steve! Tutto bene? Allora mettimi il ragno coi soldi? Oh porca miseria! Cosa otteniamo Steve? Non evocare satana cortesemente? Wow! Un tizio a cui il denaro piace pop una cifra e c'ha giustamente quattro gambe! Quattro braccia per il denaro sarebbero state più comode! Buttiamo giù il militare! Ok! Ehm... Scendiamo senza prendere la pala! Sono curioso di scoprire cosa accade se... Atterro comunque in tutta sicurezza grazie al paracadute! Ma non avendo la pala non riesco a andare in salvo! Perché l'aereo sta per precipitare! Non dimentichiamocelo! Infatti mancano 10 secondi! Io non penso di poter fare molto! Potrò prendere a calci la palma? Ah! Ho trovato il militare morto! No! Ma... Infatti l'aereo mi prende... Mi percuote all'improvviso! Yeeey! Ehm... Altre scene completate! Siamo all'81%! No! Cos'è accaduto? Cos'è accaduto? Cos'era quella faccia? Ma mi prendete in giro? No davvero sto gioco è completamente fuori di cervello! Mi fa piacere che almeno ti riporta solo nei livelli in cui non hai completato tutto! 90% pedavero! Oh! Io aspetto che il timer raggiunga lo zero! Vediamo un po'! In teoria è questo! Porca boiazza! Sì! Mi sa che abbiamo trattato la scenetta giusta! in pieno il campo d'asteroidi! Che culo! Ma perché c'era un rocchettaro? Ok! Vabbè! E non mi ha dato 100% tuttavia! E dai! Che succede se io mi butto di sotto? Tuttavia provo ad afferrare il militare senza avere null'altro! Vediamo un po'! No! Che pezzo di erba! E io atterro male male! Non mi pareva di averci provato? Il gioco dice... Eh! Non mi ha dato nessun finale! E se rubo i capelli alla signora e basta! Le ho rotto la boccia! Ma non abbiamo risolto niente così! Volevo rubarle i capelli in verità! Eh! Ok! Dimmi che era l'ultima scenetta! Se no ho finito l'idea pure io! Et voilà! 100%! Ok! È stata complicational! Guarda monettine che abbiamo ottenuto! Sì però... Gioco... Ancora? Ma ho fatto tutto qui! Non posso non aver fatto tutto! Eh! Credo di aver capito! Questa volta sono salito a bordo della navetta! Tuttavia eviterò di sparare agli asteroidi! Anzi mi ci butto proprio contro così di perpotenza! No! Ah! Niente! Ma come? Dai era un'idea perfetta! Vabbè! Signori! Allora! Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua! Perché abbiamo già visto il disagio over 9000! E mi domando davvero quante altre mappe ci attendono! Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate! Lasciate un bel mi piace! Altrimenti passate tutto il fine settimana con Steve! E noi ci vedremo in un prossimo video! Ciao ciao! Ciao ciao!